Hyperfund, una bomba pronta a esplodere. Ragazzi, buongiorno. Allora, video sul quale ho ragionato tantissimo se farlo o meno. Allora, come sapete, nel mio canale porto l'analisi di tantissime azioni, di tantissimi ETF, certificates, insomma, comunque strumenti quotati, strumenti regolamentati, strumenti che, diciamo, possono comunque e sono regolamentati da organizzazioni riconosciute dagli stati, regolamentati dalla Consob, regolamentati da altri enti, chiaramente che sono preposti alla sicurezza e protezione del cliente stesso. Oggi parliamo di Hyperfund, uno strumento, in realtà è anche sbagliato chiamarlo strumento di investimento perché non lo è. Si tratta di una community, una community che promette alti guadagni ma che presenta anche chiaramente tantissimi, tantissimi rischi. Io, avendo un canale YouTube che parla di finanza personale con un seguito che ormai ritengo più che soddisfacente, con oltre 3.000 iscritti al mio canale, non posso non tenervi aggiornati su Hyperfund e su tutti i rischi connessi. Mi sento veramente in dovere, per me è un obbligo, tenervi aggiornati sui rischi che ci possono essere online. Ho fatto tra l'altro anche un piccolo sondaggio qualche giorno fa sulla community del mio canale YouTube per sapere se volevate un video su Hyperfund ed è il risultato che circa la metà di quanti hanno risposto non sanno neanche di cosa si tratta. Di conseguenza mi pare giusto andarne a parlare perché purtroppo chi non sa cos'è Hyperfund potrebbe essere attratto da alcuni rendimenti molto molto allettanti che vengono pubblicizzati. Chiaramente la prima regola per raggiungere il pensionamento anticipato è quello ovviamente di non perdere soldi. Lo dice anche Warren Buffett direi. Quindi facciamo attenzione a dove mettiamo i nostri quattrini. Pertanto se vi piacciono questi aggiornamenti su Hyperfund, credo che ne arriveranno degli altri, mettete un like a questo video. Se vi piacciono questi video non mancate di iscrivervi al canale YouTube. Se non vi piacciono questi aggiornamenti su Hyperfund semplicemente perché ci avete già investito e semplicemente perché magari qualche fuffaguru che ha tutto l'interesse a vendere il proprio link di affiliazione vi ha magari convinto a iscrivere Hyperfund e volete in qualche modo condividere la vostra disapprovazione. Scrivetelo nei commenti, ma non dimenticate che i commenti più volgari verranno automaticamente cancellati da YouTube. Io non potrò farci nulla e non dimenticate che io sono il padrone di questo canale e farò quello che voglio. Quindi buon ascolto a tutti e partiamo con questo video. Allora Hyperfund promette rendimenti elevatissimi, lo 0,5% al giorno. Allora facendo due conti non ci vuole un genio, basta una calcolatrice, vuol dire che in 200 giorni uno potrebbe raddoppiare il proprio capitale. Anzi togliamo anche il condizionale. Hyperfund sostanzialmente lo dà per scontato. E cosa potrebbe dare la certezza di raddoppiare il capitale in solo 200 giorni, che è poco più di metà anno? Nulla, direi. In compenso, se io riesco a far iscrivere molte persone attraverso il mio link di affiliazione, avrò comunque una ricompensa. E qui c'è una tabella con tutte le ricompense aggiuntive. Quindi, in teoria, chi consiglia Hyperfund attraverso il proprio link di affiliazione ha tutto l'interesse di farlo perché ha comunque un guadagno molto molto interessante. Ricordo tra l'altro che nel video precedente avevo parlato di schema Ponzi. In molti erroneamente hanno inteso che lo schema Ponzi sia direttamente legato al fatto che ci sia qualcuno che invita qualcun altro all'interno di un certo ecosistema. No, non è così. Assolutamente. Lo schema Ponzi funziona in modo totalmente diverso. Qualcun altro ha detto, non è uno schema Ponzi, io sono già mesi che sto guadagnando. Assolutamente. Ma guardate, io sono anche convinto che i primi che sono entrati riusciranno forse anche a guadagnare da questo sistema di Hyperfund. Tant'è che il più grande, forse non è stato il più grande, ma sicuramente il più famoso schema Ponzi degli ultimi anni. Quello creato dalla società di Madoff è stato scoperto nel 2008 con l'ultima sentenza nel 2009, quando il tribunale del distretto federale di Manhattan ha inflitto all'ex presidente del Nasdaq Madoff una pena di 150 anni. Poi Madoff tra l'altro è anche recentemente morto. Quindi nel 2009 è arrivata la sentenza, nel 2008 era saltato un po' tutto il baraccone. Ma già dal 1999, quindi da dieci anni prima, erano emersi dubbi cerca l'operato della città di Madoff. Quindi in realtà uno schema Ponzi può andare avanti tanti tanti anni. Non è detto che dopo un anno o due anni salti. E questo è il motivo per cui ho detto che Hyperfund Hyperfund potrebbe far guadagnare i primi entrati, ma prima o poi se si rivelasse uno schema Ponzi, se si rivelasse un sistema piramidale, qualcuno rimarrà con il cerino in mano. Io non dico che Hyperfund è sicuramente un sistema piramidale, che sicuramente è un Ponzi, che sicuramente salterà per aria. Però tanti sono gli indizi e io ci tengo a mettere. Comunque, sull'attenti, chi mi segue, chi decide di mettere i soldi in questo sistema. Poi, chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi. Io l'avvertimento l'ho dato. Se fra vent'anni dovesse ancora esistere Hyperfund, io sicuramente sarò il primo a fare ammenda. Sarò il primo magari a mordermi le mani per non essere, diciamo, non aver cavalcato questa grande possibilità, ma sinceramente preferisco starne fuori. Poi, come detto, ditemi la vostra nei commenti. Con successo, portiamo qualche novità rispetto al video precedente. Tra l'altro, metterò magari anche il link nei commenti e nella descrizione. Allora, possiamo dire che a fine 2020 Binance ha delistato Hypercash dal suo parco cripto, confermando la natura discutibile del progetto. Binance stessa, il 24 dicembre 2020, alle ore 7.09, scriveva «Sulla base delle nostre recensioni più recenti abbiamo deciso di rimuovere e interrompere il trading su tutte le copie di trading per i seguenti token, al 30-12-2020». E tra cui c'è Hypercash. Altra notizia. Di marzo 2021. Qualcuno lo metteva in dubbio, ma la Financial Conduct Authority, quindi un ente britannico di controllo ha detto che Hyperfund non è autorizzata e non sono autorizzati i siti di hyperfund.online e di hyperfund.com. Hyperfund.com è proprio il sito ufficiale di Hyperfund. Quindi attenzione, perché l'azienda non è autorizzata dagli Stati Uniti e non è autorizzata a, diciamo, offrire servizi finanziari. Attenzione quindi. Poi, notizie più recenti. Il 30 settembre 2021, il Financial Market Authority, quindi l'ente di controllo neozelandese, anch'esso ha iniziato una procedura di monitoraggio su Hyperfund per possibile scam. Questo qui è un screenshot del sito, proprio della Financial Market Authority, quindi potete andarvelo a vedere tranquillamente anche voi. Ancora. La criptovaluta Hyperfund è sotto lo scanner del governo indiano. Notizia del 20 settembre 2021, recentissima. Ancora. Il bagliato di Guernsey, un piccolo gruppo di isole tra Regno Unito e Francia, ha segnato Hyperfund perché è privo di licenza per operare nel settore. Anche in questo caso c'è lo screenshot direttamente dalla Financial Commission di Guernsey. Quindi, insomma, tantissime autorità stanno mettendo sotto il proprio scanner questo servizio, fra virgolette, finanziario. Questa community, chiamiamola. Quindi, ragazzi, io lo dico ancora, uscirà probabilmente un altro video di aggiornamento con approfondimenti sul tipo di business di Hyperfund. Un approfondimento anche sui fondatori, persone con un passato abbastanza contrastato. Ci sono tantissime notizie. Ormai sono tanti quelli che stanno aprendo gli occhi. Ci sono tanti blog, anche in italiano per fortuna, che stanno allarmando i possibili investitori sui rischi che ci sono. Io direi perché andarsi a cercare il freddo per il letto con questi sistemi che sinceramente mi fanno veramente paura. Poi, come detto, ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno è libero di seguire le fonti che vuole. Io vedo tantissime fonti anche su YouTube che consigliano un investimento. In questo settore, ovviamente, lo consigliano caldeggiando di cliccare sul proprio link di referenza, ma, sinceramente, vedendo chi lo consiglia, io ci andrei un attimo piano. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!